se avete parlato anche dell'iniziativa mandate a scuola di russo nonno apollo ovviamente è stato qual è stato il numero uno e finanziamenti era per quello sì e beh rimaniamo allora in tema russo perché tra qualche giorno il 16 di giugno quindi stiamo parlando del 16 giugno 2013 cadrà un anniversario davvero importante quello del primo volo di una donna nello spazio la sovietica all'epoca Valentina Tereskova che lo sta tra l'altro celebrando in questi giorni in una serie di iniziative se non ricordo male in Austria e comunque proseguiranno ancora queste iniziative per celebrare questo traguardo davvero fondamentale avremo modo di parlare molto in dettaglio dell'impresa di Valentina Tereskova a bordo della capsula Vostok 6 con un articolo che pubblicheremo proprio il 16 di giugno quindi aggiungeremo al momento opportuno nelle note dell'episodio anche un link a questo articolo su astronauti news e per il momento però mi limiterei a soffermarmi su alcuni dettagli su alcune vicende un po meno note di della vita della Tereskova e della sua impresa sulla Vostok 6 su cui magari non mi sono soffermato in questo articolo ma mi sembrano interessanti anche per rifletterci. La prima curiosità su questa vicenda sulla missione della Tereskova è che come era ad uso tra l'altro nel programma spaziale sovietico la Tereskova insieme con le altre donne che erano state selezionate per da cui scegliere quella per la prima missione di una donna nello spazio si addestrava in segreto e non aveva precisato la natura di questo suo impegno nemmeno alla famiglia la quale aveva detto genericamente che si stava allenando in team speciale di paracadutisti ricordiamo che la Tereskova aveva lobby del paracadutismo ed era stato questo uno dei requisiti fondamentali per la scelta sua e delle sue compagne perché le capsule utilizzate in quel periodo le Vostok non avevano un sistema di frenaggio sufficientemente avanzato e quindi il cosmonauta l'occupante della Vostok doveva una quota di variabili tra i 5 e i 7 mila metri doveva essere espulso dall'interno della capsula che poi scendeva con un proprio paracadute urtando il suono a una velocità molto molto grande doveva lanciarsi appunto con il paracadute e poi atterrare autonomamente con una velocità molto minore quindi per proteggere la sua incolumità. Quindi non solo era un suo hobby quello della Tereskova peraltro anche abbastanza diffuso nell'Unione Sovietica di quell'epoca ma era la scusa che aveva dato anche alla madre per questa sua assenza prolungata di diversi mesi e la madre insomma riceveva periodicamente delle lettere dalla Tereskova che non la voleva lasciare in pensiero e queste lettere però potevano arrivare con un certo periodo di ritardo in queste lettere si premurava di dire la Tereskova che stava bene e che aveva molti impegni insomma un'agenda piuttosto piena e proprio il giorno del lancio la mamma della Tereskova ricevette una di queste lettere dalla figlia e quando i giornalisti andarono a congratularsi per l'impresa poco dopo il lancio quando la notizia venne resa pubblica la madre vedendola in televisione disse ma no non è possibile Valentina mi ha appena scritto ho ricevuto oggi una lettera che sta completando il suo allenamento e che tra qualche giorno tornerà a casa ma poi vedendo queste immagini e avendo altre informazioni si convinse che quella nello spazio era effettivamente sua figlia figlia che per la quale conservò un po' di risentimento per un po' di tempo perché non le perdonò inizialmente di averle detto una bugia per questa per questa missione così segreta un'altra cosa su cui vorrei riflettere a proposito della missione della Tereskova e che spesso parlando di questi lanci pionieristici soprattutto nella prima parte della del programma spaziale sovietico americano quindi stiamo parlando degli anni 60 si ripete spesso che questi uomini e anche questa donna erano coraggiosi per esempio per il fatto che all'epoca le tecnologie spaziali non erano ancora molto avanzate e volare su un razzo era particolarmente rischiosa ma c'era un'altra fase particolarmente rischiosa delle missioni Vostok a cui su cui si riflette poco ed era proprio questa delle fasi finali del rientro nell'atmosfera e poi della discesa cioè quando il cosmonauta veniva espulso dalla capsula come ricordavamo una quota variabile tra i 5000 e i 7000 metri. Siamo abituati a pensare a questa fase della missione eseguita in condizioni normali quindi con l'assetto giusto di espulsione del seggiolino su cui si trovava il cosmonauta dalla capsula orientata nel modo corretto ma in realtà questa era soltanto la situazione nominale quella che si è effettivamente verificata nelle missioni del programma Vostok poteva invece andare diversamente qualcosa poteva andare storto e il cosmonauta poteva essere espulso automaticamente dal suo seggiolino anche manualmente in assetti completamente diversi anche sfavorevoli in traiettorie verso l'alto verso il basso con la capsula che ruotava che era instabile che poteva avere molti altri assetti non nominali e questo chiaramente comportava dei rischi per l'inconlumità del cosmonauta dell'occupante che si doveva lanciare veniva letteralmente sparato da un sistema di motori a trazzo dall'interno della capsula sul suo seggiolino quindi i cosmonauti inclusi la telescova si allenavano prima della missione compiendo decine e decine di lanci con il paracadute lanciandosi da aerei cercando di riprodurre per quanto possibile queste situazioni non nominali e anche questo addestramento era pericoloso quindi era necessario un coraggio non solo per così essere dei passeggeri passivi di questi veicoli spaziali ancora largamente sperimentali ma anche per compiere questa fase finale del volo cioè lanciarsi con il paracadute possiamo pensare a quali siano le difficoltà di mantenere un assetto stabile di guadagnare mantenere un assetto stabile lanciandosi con un paracadute da un veicolo in movimento pensando ripensando all'impresa recente del paracadutista Felix Baumgartner che si è lanciato dalla stratosfera e che ha incontrato problemi di natura simile quindi di mantenimento dell'assetto corrente un'ultima cosa che vorrei ricordare a proposito della carriera della terescova e che poco dopo la sua impresa quindi Vostok 6 venne lanciata il 16 di giugno del 1963 e rientrò a terra quasi tre giorni dopo il il 19 di giugno qualche anno più avanti si fece l'ipotesi di un suo secondo volo nello spazio nel 1965 quando era in corso il programma Voskod quindi una versione modificata della capsula Voskod si ipotizzò di compiere un'altra missione con scopi propagandistici simili a quelli della missione Vostok 6 con la terescova pensando di mandare nello spazio non una ma due donne una delle quali avrebbe effettuato una passeggiata nello spazio inizialmente l'equipaggio di questa Voskod la Voskod 5 costituito da due passeggeri doveva essere costituito da due altre delle donne selezionate insieme con la terescova per la prima missione si chiamano Valentina Ponomariova e anche Irina Soloviova si ipotizzava che la Soloviova avrebbe effettuato una passeggiata spaziale e che la Ponomariova sarebbe stata la comandante il comandante di questa missione ci furono diverse obiezioni alla Ponomariova come comandante a partire dalla stessa terescova che si propose in questo ruolo di comandante facendo notare che la Ponomariova insomma non aveva i requisiti ideologici necessari per una missione importante anche dal punto di vista propagandistico e dell'immagine perché era un po' femminista un po' troppo indipendente non rappresentava bene i modelli sovietici di donna sovietica che invece si volevano trasmettere anche con questa missione quindi per qualche tempo nell'anno 1965 all'inizio di quest'anno quando si iniziò a discutere di questa possibilità si ventilò anche l'ipotesi che la terescova potesse diventare comandante della missione Voskod 5 insieme alla Soloviova che avrebbe effettuato una passeggiata spaziale ma poi nel corso del passare del 1965 questa ipotesi divenne sempre più improbabile con l'opposizione di diverse parti nell'ambiente spaziale sovietico erano contrari per esempio lo stesso Gagarin ma anche molti altri ambienti soprattutto nelle società aerospaziali che fornivano i componenti e i veicoli del programma spaziale sovietico una delle opposizioni cruciali fu quella dell'azienda che avrebbe dovuto realizzare le tute spaziali indossate dalle due donne che si rifiutò completamente di produrle quindi tra le varie altre ragioni si decise di accantonare questa missione anche perché poi il programma Voskod venne terminato soltanto dopo le prime due missioni per concentrarsi sul futuro veicolo spaziale con equipaggio la Soyuz che avrebbe iniziato i primi voli qualche anno dopo per il momento è tutto sulla missione della Telescova vi invito quando sarà pubblicato a seguire questo articolo commemorativo su Astronauty News anche per questo episodio abbiamo terminato vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo